ragazzi siamo arrivati di nuovo al vlog avete scritto delle cose cosi e io faccio altri due vlog così a casa vi parlate delle cose così dei scritti ragazzi sono nuovo sono il fratello di alesk turco ma c'è scritto cicio gamer vabbè così fa sono il fratello suo e poi con l'amico di e poi l'amico leo io sono gabriele il fratello di alesk turco che youtuber si chiama cicio gamer io mi chiamo proprio gabriel scritto vabbè mi avete scritto così qualcosa e sto pensando vabbè vabbè tanti pollicioni in su tanti pollicioni su 50 pollicioni in su e ciao ciao ciao